Frenesia per l'IPO di Ripple, cosa potrebbe accadere al prezzo di XRP? Ciao caro amico investitore come va? Bentornato sul mio canale, io sono Andrea Oggi andiamo a vedere questa notizia importante in quanto c'è tantissima frenesia per l'IPO di Ripple e potrebbe raggiungere traguardi veramente enormi il prezzo di XRP Oltre a questo andremo anche a vedere perché XRP è stato progettato proprio per i pagamenti trasfrontalieri Quindi seguitemi fino alla fine di questo video qua Come sempre partiamo da CoinMarketCap, possiamo vedere che attualmente il prezzo di Ripple è stabile intorno ai 51 centesimi di dollaro e abbiamo un volume negli ultime 24 ore di 873 milioni, quindi un aumento del 5% rispetto alle 24 ore precedenti Partiamo poi da questa prima notizia in quanto Grayscale sta chiedendo l'autorizzazione alla SEC per convertire il più grande prodotto di investimento Ethereum in ETF spot Sapete già bene che Grayscale ha già lanciato il suo Ethereum Trust da diverso tempo e sta tentando di trasformarlo in ETF spot a seguito ovviamente da tutti quanti gli altri grandi player, istituti che stanno lanciando il loro ETF Bitcoin Anche Grayscale già aveva provato a lanciare precedentemente il suo ETF per quanto riguarda il Bitcoin Ma come sapete la SEC aveva respinto la richiesta spingendo quindi Grayscale a interprendere un'azione legale contro l'agenzia, contro la SEC Comunque sono già ben avviati, Grayscale ha incominciato già a parlare, a collaborare con l'Arca della Borsa di New York, il Nise per presentare domanda di conversione alla SEC Infatti hanno comunicato che siamo orgogliosi di collaborare con Nise, Arca, su questo documento e non vediamo l'ora di collaborare con la SEC sui prossimi passi Questo ha affermato David Laval, responsabile di ETF di Grayscale E pensate che il suo Ethereum Trust, lanciato nel marzo del 2019, già conta oltre 4,9 milioni di dollari in asset in gestione Questo pensate che rappresenta il 2,5% di tutti gli ETH in circolazione Inoltre Grayscale afferma che oltre 250.000 investitori americani detengono il loro prodotto nei loro conti Di base il Ethereum Trust è già utilizzato da grandissime istituzioni Hanno già investito i loro fondi nel Ethereum Trust Il passo successivo è appunto l'ETF ETF che potrebbe dare una grandissima spinta al settore delle criptolute Ora passiamo alle notizie di XRP Infatti possiamo andare a leggere Ecco come XRP è stato progettato per rivoluzionare i pagamenti globali Con oltre 293 milioni di transazioni al giorno Infatti in un recente tweet dell'influencer Alex Cobb Ha arrivato alcune statistiche impressionanti sulla capacità della blockchain di XRP Ledger Ha proprio comunicato che sappiamo tutti 3.400 transazioni al secondo fa XRP Quindi si traducono in 204.000 transazioni al minuto Che a sua volta implica la ragguardevole cifra di 12,24 milioni di transazioni all'ora E su una scala ovviamente giornaliera 24 ore su 24 Cobb ha affermato che il token XRP può facilitare oltre 293 milioni di transazioni al giorno Questo è un dato molto elevato Però qua abbiamo subito una smentita dall'esperto Daniel Keller Ambasciatore di XRP Ledger e Chef Technology Officer CTO di Eminence Infatti ha fornito una dose di realtà al vanto di XRP di 3.400 transazioni al secondo Keller ha chiarito che le 3.400 transazioni al secondo Sono semplicemente una cifra teorica Ottenibile in un ambiente di laboratorio controllato in condizioni perfette Quindi secondo Keller nel mondo reale dove le condizioni sono imperfette L'XRP non può raggiungere 3.400 transazioni al secondo Stessa cosa è stata infatti confermata dal CTO di Ripple Dove ha recentemente confermato questa affermazione Infatti il team di sviluppo XRP aveva pubblicato che XRP poteva facilitare 1.500 transazioni al secondo Quindi le famose 293 milioni di transazioni al giorno non è fattibile al momento per Ripple Infatti può gestire soltanto al momento 1.500 transazioni al secondo Per raggiungere effettivamente le transazioni del 3.400 transazioni al secondo Bisogna avere un ambiente proprio pulito al livello massimo di efficienza Che al momento non è fattibile In quanto Ripple è ancora in fase di sviluppo Comunque passiamo alla notizia principale per quanto riguarda il video Una notizia bomba infatti c'è tantissima frenesia per l'IPO Cosa potrebbe accadere al prezzo di XRP se le azioni Ripple salgono a 600 dollari Questa comunicazione arriva esattamente dall'esperta finanziaria Linda Jones Che parlava di una possibile valutazione per Ripple Questo video qua possiamo vederlo qua tramite Twitter È un video dove va proprio a dire la sua per quanto riguarda Ripple e la sua IPO Secondo suoi dati statistici che la valutazione attuale di Ripple è inferiore Secondo lei a quella che potrebbe essere effettivamente Andiamo a vedere un riassunto di questo video Comunque se volete vedervi il video in originale vi lascerò il link del tweet qua sotto in descrizione Così lo potete andare a vederlo in lingua originale Il video brevemente va proprio a spiegare che Jones aveva proposto una valutazione di 5,7 miliardi di dollari Per un possibile titolo che all'epoca collocava il prezzo di una singola azione a 35 dollari ciascuno Utilizzando i dati della piattaforma Linkto E comunque Linda Jones ritiene che la valutazione delle azioni di Ripple al 35 dollari sia troppo bassa Infatti Linda Jones ha fatto un confronto con Coinbase quando aveva fatto la sua IPO Infatti confrontando Ripple con Coinbase la cui IPO aveva una valutazione di 86 miliardi di dollari L'analista finanziario sottolinea che le azioni di Ripple sarebbero valutate molto più alte Prende in considerazione anche la capitalizzazione di mercato dell'offerta di XRP A quel punto arriva una valutazione di 107 miliardi di dollari In confronto alla valutazione attuale di 21 miliardi di dollari In questo caso il valore delle azioni Ripple risulta essere 20 volte superiore a quello che erano valutate al momento dell'intervista Questo si potrebbe proprio tramutare a Ripple a un valore di circa 600 dollari 600 dollari per azione per quanto riguarda l'azienda Ripple è una cosa veramente mostruosa E se effettivamente dovesse raggiungere questa valutazione qua per quanto riguarda Ripple Capite da voi che c'è una crescita veramente enorme Oltre al fatto che va anche a specificare che c'è la possibilità di essere più alto Come sottolinea l'esperto la valutazione di Ripple Potrebbe raggiungere il mezzo trilione di dollari Infatti va proprio anche a dire sempre in quel video Che secondo lei l'azienda Alicarte regola per essere considerata un'azienda di alto valore come Nvidia o Apple Qua lo sto ripetendo in diversi video che sto sempre facendo Ripple ben posizionata per diventare effettivamente il sistema per i pagamenti trasportalieri O per essere utilizzata da diverse banche Abbiamo già visto che collabora con già 9 su 10 banche centrali Per quanto riguarda le CBC il loro sistema di pagamento Quindi questa quotazione potrebbe essere anche fattibile Poi si viene anche da un'esperta come Linda Jones Che ha più di 20 anni di esperienza nei mercati Quindi potrebbe essere effettivamente una valutazione anche onesta Ovviamente ricordo queste notizie qua prendetele sempre con le pinze Andate sempre a valutare le informazioni che vi do con la vostra testa Comunque cosa potrebbe accadere al prezzo di XRP se Ripple Le azioni di Ripple dovessero essere valutate 600 dollari Qua XRP potrebbe avere anche lei una crescita enorme Infatti se un titolo di Ripple dovesse essere rilasciato e raggiuncesse il livello massimo previsto dai calcoli di Jones Allora ci sarebbe ragioni più che sufficienti Perché il prezzo di XRP salisse alle stelle insieme al prezzo delle azioni E perché potrebbe accadere veramente questa cosa qua dell'inalzamento del prezzo di XRP Se Ripple dovesse arrivare a 600 dollari Perché qua fa anche un esempio molto banale ma è veritiero Perché quando il prezzo di Bitcoin aumenta Il prezzo delle azioni delle società minerari Bitcoin spesso seguono l'esempio Questo accade perché un aumento di fede in uno si traduce in un aumento di fede nell'altro Applicare la stessa logica Ripple è un aumento del prezzo delle azioni Comporterebbe probabilmente un maggiore interesse per la criptovaluta sottostante Con conseguentemente aumento del prezzo di XRP In tutti questi video qua che dico vado a parlare di Ripple azienda come azienda è una cosa Ma indirettamente lo dico sempre il token XRP ne beneficerà anche nel breve termine Perché se Ripple effettivamente andasse a 600 dollari anche il token sottostante avrebbe una crescita E questo è proprio l'esempio perfetto che uno possa farvi Come è già successo in passato quando Bitcoin cresce anche le azioni minerari Bitcoin crescono Perché è un sottostante stessa cosa può accadere per Ripple Quindi Ripple è ben posizionato con quel potenziale per diventare effettivamente quel sistema di pagamenti trasfrontalieri E se effettivamente vedremo Ripple a un'azione di 600 dollari avrà veramente quel potenziale anche il token XRP di vederlo a 5 dollari Ovviamente vado a ripetere potenziale potenziale di crescita non vuol dire che potrebbe succedere Ma c'è una grandissima probabilità che possa accadere perché Ripple si sta muovendo veramente bene Abbiamo visto quante partnership ha stretto Ripple già con tantissime banche Sta già collaborando con diverse banche centrali plessibili Quindi dobbiamo soltanto attendere e vedere cosa accadrà nei prossimi tempi Per quanto riguarda questa criptoluta qua e per quanto riguarda questa azienda qua soprattutto Bene ragazzi come sempre spaccate il tasto di like se vi è tornato utile questo video Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti, ciao! Un saluto a tutti